Piazzale Amendola a Lido di Fano può finalmente dire addio ai lavori per la realizzazione della vasca di contenimento che avrà il compito di raccogliere l'acqua piovana che ad ogni pioggia incessante allaga il sottopasso e l'intera zona. Questa mattina gli operai hanno asfaltato tutto il perimetro dell'area coinvolta dai lavori. Sono terminati i lavori in piazzale Amendola come previsto da programma. È chiaro, dovevano essere finiti già da due mesi, ma non possiamo dimenticare che nel frattempo c'è stato un lockdown, c'è stata una pandemia che ha bloccato le attività lavorative di tante aziende, tra cui anche questa. Inevitabilmente i lavori sono slittati di alcuni mesi, però nella nuova programmazione i tempi sono stati rispettati e oggi sono finiti in modo definitivo i lavori per la realizzazione della vasca che ricordo servirà per contenere l'acqua piovana quando ci sono progetti insistenti. A partire da questo fine settimana l'area sarà di nuovo disponibile per il passaggio e la sosta delle auto, mentre da lunedì mattina la ditta completerà l'intera segnaletica orizzontale con la realizzazione di ben 40 parcheggi tra posti auto e moto e, come sottolinea l'amministrazione comunale, saranno completamente gratuiti per tutto l'arco della stagione estiva. Ma per vedere in funzione l'intera opera dovremmo aspettare ancora qualche mese. Non entrerà ancora in funzione perché i lavori nel suo insieme non sono terminati. Questo lo diciamo, non deve evitare anche inutile polemiche, quindi a fine estate riprenderanno i lavori per l'installazione delle centraline che metteranno in funzione tutti gli impianti, le pompe per il trasferimento delle acque. Quindi per quest'estate se ci saranno ancora delle piogge inevitabilmente il problema rimane. Al termine del centraline, quindi dopo settembre, quindi penso fine ottobre, entrerà tutto in funzione e a Lido in modo definitivo sarà risolto il problema. È chiaro che ci sono stati dei prolungamenti, ma queste sono andate al di là delle nostre volontà, però ricordo che dopo tantissimi anni, al di là delle chiacchiere, pur con qualche ritardo, è un'altra opera che verrà realizzata per migliorare la qualità della vita ed evitare i disservizi che si creavano dopo ogni pioggia insistente.